ciao a tutti ragazzi match day oggi si gioca contro la fiorentina e tra l'altro è una partita particolare perché vlaovic torna a firenze con la maglia della juventus la sentite nell'aria questa cosa frizzantina poi lasciamo stare che la fiorentina sia stata obbligata a fare un comunicato invitando i tifosi ad evitare cori razzisti o discriminatori nel 2022 dovremmo essere leggermente oltre lo sappiamo bene non siamo oltre quindi va bene speriamo che possa essere davvero così e speriamo possa essere una bella partita speriamo soprattutto che possa essere una bella vittoria per la juventus come al solito un mi piace a questo video e vi invito a scaricare one football l'app la trovate qui sotto in descrizione oppure potete inquadrare con la fotocamera del vostro cellulare questo qr code che vi farà partire in automatico il download su one football potrete leggere tutti gli aggiornamenti perché la prova e la formazione sembra una sorta di 352 con a che titolare a tutta fascia ragazza under 23 della juventus più una difesa 3 composta da solo d'elite come difensore centrale con danilo a destra ed esce a sinistra vabbè i tre centrocampo ve li lascio indovinare con uno sforzo di fantasia incredibile scaricate one football e della partita parleremo ancora domani stasera ovviamente in tutti gli appuntamenti soliti ogni volta che gioca la juventus su questo canale troverete tutto quello che state cercando oggi nel pre partita dato che non c'è troppo da dire dato che ieri non nemmeno seguito la conferenza stampa ripresentazione di massimiliano allegri dato che come avrete visto anche da instagram ero impegnato nel carnevale di venezia ho deciso di parlarvi di quello che ho sognato stanotte voi sarete a dire ma cosa ce ne frega ho fatto un sogno che riguarda la juventus e cioè è il calciomercato invernale la juventus non ha ancora acquistato nevlaovic nezaccaria la juventus esonera massimiliano allegri che firma con l'inter perché contemporaneamente l'inter esonera simone inzaghi e la juventus richiama andrea pierlo e allora mi sono svegliato con questo gusto di follia e dopo aver visto il secondo tempo ieri sera del derby di milano dove ho assistito ancora una volta due squadre che sono in estrema difficoltà e che faticano a trovare la via del gol e che faticano ad esprimere lo stesso gioco che magari avevano fino a qualche e dato che abbiamo già parlato di discorso scudetto e sapete bene come la penso io in questo momento non ci credo nello scudetto e per i prossimi due mesi continuerò a dirvi questa cosa perché basta davvero che ne so domenica prossima noi perdiamo inter e milan vincono allungano e finisce la magia o diversamente noi vinciamo inter e milan non vincono accorciamo ancora di più siamo lì a credere lo scudetto per la settimana dopo invece succede il contrario si riallunga e quindi la magia continua a finire ancora una volta è un discorso un po delicato e settimana dopo settimana ragazzi questo equilibrio è destinato a cambiare è ovvio che non manca più tanto è ovvio che questo è il mese decisivo è ovvio che le grandi squadre da adesso fino alla fine difficilmente lasciano punti per strada perché quelli che ha lasciato in precedenza sono già stati troppi eventualmente se si vuole puntare come dicevo anche l'altro giorno a delle zone importanti di classifica in serie a oppure di piazzamento nelle coppe europee nazionali non si può più sbagliare perché il momento i mesi di rodaggio come diceva una membrof del liceo sono finiti e quindi è ovvio che la juventus dovrà cercare di fare un plane in queste partite di campionato e io ero guardato anche un po il calendario della juve abbiamo sul finale un po di difficoltà con lazio e fiorentina appunto come questa sera e poi abbiamo l'inter tutte le altre sono partite molto abbordabile molto alla portata della juve la juventus le può potenzialmente vincere tutte ma ve lo dico da settimane ormai poi diversamente sarà la juventus le vincerà tutte a tutti gli effetti oppure no è proprio perché stavo parlando no di questo discorso legato a pirule proprio perché anche l'altro giorno abbiamo tirato fuori il discorso di pirlo facendo vedere come in realtà fino a questo momento specifico della stagione quindi giornata numero 27 ai ventus di pirlo fosse in realtà una squadra molto in salute con 58 punti in serie a che oggi vorrebbero addirittura il primato il primo posto in classifica di fronte alle tanto lodate inter milan e napoli che stanno facendo un campionato fantastico stanno veramente secondo me stavano secondo me overperformando e da qualche settimana questa parte invece hanno avuto questa flessione che le condanna a un campionato ancora tutto aperto e allora cosa sarebbe successo se l'eventus fosse andata avanti con andrà pirlo anche in questo caso non tanto come nel mio sogno in cui allegri viene esonerato a dicembre firma con l'interna roba un po fantascientifica quanto più compirlo dall'inizio perché non so se ve la ricordate ma qualche settimana fa io avevo messo giù la famosa disequazione eravamo con chino e davo stavamo facendo un video durante una pausa nazionale e dissi io non sono ancora in grado di capire era poco dopo la vittoria col celsi per uno zero non sono ancora in grado di capire se vale di più cristiano ronaldo più pirlo o se vale di più locatelli più allegri quindi dove lo mettiamo il verso della disequazione che pende verso pirlo e ronaldo che pende verso allegri e locatelli devo dirvi la verità tuttora non ho una risposta e anzi probabilmente la risposta pende più verso pirlo ronaldo perché secondo me cristiano ronaldo è un talento che difficilmente può essere rimpiazzabile in una maniera così semplice quindi con un allenatore e un centrocampista perché cristiano ronaldo è quello che va un po a sbancare il banco va a rompere il banco va a rompere questo equilibrio e maggior ragione quando ancora una volta torno a dire la juventus di pirlo fino a questo momento fossimo ancora in un campionato con pirlo al comando fino a questo momento si andava ancora discretamente bene poi l'uscita dalla champions col porto ci ha un po tagliato le gambe ed è vero come vero che lo sappiamo togliendo le prime quattro giornate di campionato massimiliano allegri oggi sarebbe primo in serie a anche con questa juventus secondo me ci fa capire che sia la juve di pirlo dall'anno scorso che sia la juve di allegri di quest'anno sono due squadre che tanto lontane effettivamente dal livello dal valore ma anche concretamente da quello che avviene sul campo rispetto alle altre non si scappa ed è vero che la juventus ha uno degli allenatori più pagati della serie a è vero che la juventus ha una delle rose più costose uno dei monti ingaggi più elevati certo assolutamente quindi per forza di cose voi direte bisogna essere lì però in una situazione come quella dell'anno scorso che definiamo fallimentare e in una stagione come quella in corso che facciamo ancora fatica ad inquadrare e che sicuramente non ci lascia un bel gusto in bocca l'anno scorso a questo punto eravamo secondi solo all'inter e quest'anno a questo punto abbiamo tolte le prime quattro giornate di campionato fatto una rimonta che ci mette davanti a tutti e quindi quando ancora guardiamo le classifiche che sono quello che contano no è la fine dell'anno siamo arrivati quarti l'anno scorso e in questo momento siamo ancora quarti probabilmente dobbiamo fare un mea culpa grande e capire che dipendeva tutto da noi stessi e che siamo stati noi a sbagliare l'anno scorso compirlo nel finale di stagione e quest'anno con allegri nell'inizio di stagione poi ve l'ho detto io espresso un desiderio e cioè cercare di terminare bene una stagione che era iniziata male a differenza delle altre stagioni che iniziavano bene e terminavano male perché poi nessun lungo morivamo sempre negli anni precedenti nella storia recente e invece quest'anno siamo partiti malissimo ma abbiamo iniziato a trovare una sorta di continuità che ci mancava da tempo e allora la disequazione di cui vi parlavo prima secondo me ha un break a un certo punto che è il mercato di gennaio appunto l'area di vlaovic e prima di dirvi il finale vi faccio una domanda se l'anno scorso siamo arrivati quarti con andrà pirlo vincendo due trofei è vero con cristiano ronaldo in rosa e questo va riconosciuto e va sempre evidenziato quando si va a fare la comparazione tra pirlo e allegri ma il quarto posto con ronaldo è costato la panchina a un allenatore esordiente e due trofei non dimentichiamo solo più l'eliminazione degli ottavi di champions ovviamente perché in questo momento allora la juventus pone davvero come obiettivo l'entrare nelle prime quattro posizioni quindi ancora una volta essere in zona champions quando l'anno scorso invece è costato l'esonero ad andrà pirlo questa è una domanda forte secondo me che dobbiamo farci perché se l'obiettivo non era lo scudetto comunque giocarsi lo scudetto l'esonero di pirlo per quanto ho fatto vedere in serie a non ha senso poi è ovvio che secondo me non si ragiona per questi valori e anche l'anno scorso ve lo dicevo e io sono stato il primo a un certo punto a dirvi ragazzi era partita appunto con la fiorentina e ancora una volta a firenze quando pirlo mette in campo un 352 mai provato prima lo dice chiaramente no non avevamo mai provato abbiamo deciso di metterli partita terrificante facciamo addirittura uno non perdiamo e poi tra l'altro dopo le vinceremo tutte ma lì vi dico ragazzi io credo che pirlo abbia completamente perso il polso della gestione della squadra e non saranno i prossimi risultati a farmi cambiare idea credo che non sia più idoneo per essere l'allenatore della juventus al di là del posizionamento al di là dei risultati proprio un discorso di ho visto pirlo in difficoltà nel momento più importante della stagione che è questo come sto vedendo in difficoltà anche simone zaghi in questo momento e come invece diversamente non sto vedendo in difficoltà allegri poi magari simone zaghi adesso le vincerà tutte allegri e perderà tutte ma in questo momento storico mi sembra di vedere un allegri che nonostante i tanti problemi tanti infortuni tante squalifiche tante assenze non si fa scivolare addosso niente anzi lo accetta va in campo e la gioca come sempre è stato un po il suo modo di fare mentre simone zaghi lo vedo un po prigioniero del momento poi ho dato un'occhiata anche ai calendari delle altre il napoli adesso è un calendario infernale il milano un calendario medio difficile invece l'intero un calendario un po più abbordabile quindi secondo me lo scudetto ancora una volta ve lo dico andrà zona milano ma questa domanda sul e allora perché pirlo è stato esonerato se quest'anno l'obiettivo non era comunque vincere lo scudetto vincere più competizioni possibile andare avanti in champions ed ecco qua che entra in gioco vlaovic e ancora una volta si torna a un discorso antico e cioè cristiano ronaldo qual era il piano perché se il piano era confermare cristiano ronaldo e cristiano ronaldo non era più contento di pirlo anche mette di allegri sapevamo che probabilmente cristiano ronaldo aveva avuto anche voce nella decisione di allontanare massimiliano allegri e non è un caso ricordatevelo ragazzi davvero ve lo dico tranquillamente non è un caso che il cristiano ronaldo della juventus abbia avuto tre allenatori differenti e che il primo anno di cristiano ronaldo lo united abbia avuto due allenatori differenti negli ultimi quattro anni le ultime quattro stagioni cristiano ronaldo ha avuto i tre allenatori della juve più due del united cinque sono statistiche fuori dal mondo ed è vero che la juventus ha delle grandissime colpe nella gestione cristiano ronaldo non aver dato una squadra a un certo livello non aver dato continuità indubbiamente ma io sono davvero convinto che cristiano ronaldo avesse potere decisionale non è forte nel senso decide cristiano ronaldo ma che avesse una posizione forte nel decidere come andare avanti cambiare guida tecnica allo stesso united io sono davvero convinto che ronaldo abbia messo voce sia la juve che lo united che poi non sia la parola no di ronaldo a decidere che ma che ci sia stato tranne in questa stagione qua da parte da juve dove ha detto ok cambiamo ma scegliamo noi ci rimettiamo allegri e questo allora vi dico perché perché nel senso se c'era già l'idea di salutare comunque cristiano ronaldo e poi come si ben sappiamo c'è stato vlaovic quella famosa diseguazione che vi dicevo prima forse pende un po più dalla parte di pirlo e ronaldo ma perché c'è ronaldo ora pensare a pirlo e ronaldo oppure allegri locatelli e vlaovic pendo più da questa parte e voi direte beh grazie se fate due conti però a livello economico basiamoci solo sugli stipendi senza i cartellini che dovrebbe anche solo gli stipendi darvi un'indicazione pirlo prendeva due milioni di euro un milione otto contro il 31 di ronaldo ok quindi 33 per due 66 milioni di euro circa allegri ne prende 3 7 e 9 facciamo 8 ok 8 più vlaovic ne prende 7 e 15 più locatelli cosa ne prende 3 4 15 4 20 per due fa 40 quindi anche solo gli stipendi di questi più se vogliamo dovremmo metterci ammortamenti ronaldo pagato 100 milioni di euro per quattro stagioni vlaovic pagato 70 milioni di euro per cinque stagioni locatelli pagato 40 per cinque stagioni poi facciamo gli ammortamenti secondo me siamo lì a livello di costi ma allora la domanda provocatoria è perché se l'obiettivo comunque non era vincere lo scudetto dato che in questo momento allegri lo sta dicendo anche arriva bene qualche settimana scorsa l'ha detto l'obiettivo il must have la champions non è lo scudetto allora forse avrebbe avuto senso addirittura insistere compirlo con locatelli vlaovic se l'obiettivo non è lo scudetto poi dall'altra parte vi dico è ovvio che l'anno scorso andrea pirlo nel momento importante ha fatto vedere di non avere ancora quel polso però anche qua mi viene da dire grazie è la prima volta che allenava cosa che massimiliano allegri magari avrà che storicamente ci ha dimostrato e che in questo momento io sono il primo a sperare possa rifarci vedere non credendo nello scudetto perché qualcuno mi dice ma come fai a non credere nello scudetto se da live devi sognare sì ma la differenza tra sogno e crederci sono due cose diverse io credo nel sogno ma non credo nella realtà per il sogno io sono sempre il primo sul carro non mi passerà mai dalla testa l'idea che possa accadere qualcosa di incredibile passando anche dalla gestione allegri che non richiede per forza un certo tipo di gioco richiede altre cose e in questo momento con avversari che sono in difficoltà magari questa cosa potrebbe addirittura premiare la juventus chissà non lo so tutto questo per fare un ragionamento complessivo e pensare che secondo me ancora una volta la juventus non ha avuto proprio le idee chiare sin da subito perché prendere in considerazione l'ipotesi di fare pirlo vlavic locatelli poteva essere un'idea se l'obiettivo non era vincere lo scudetto poi magari loro pensavano di trattenere ronaldo avere allegri e secondo me da inizio anno con ronaldo e con allegri in panchina lo scudetto sarebbe stato roba tua non dico molto facile perché poi si giocano e tutto quello che vuoi ma con grosse grosse possibilità grosse grosse possibilità poi questa è un'altra storia non lo sapremo mai e bisogna anche capire un po i ragionamenti che ha fatto la juventus a inizio anno però questo sogno questo discorso pirlo allegri e questo confronto tra il pirlo che l'anno scorso a questo punto ha ceduto e che l'allegri a questo punto invece deve addirittura accelerare secondo me è molto molto interessante potremmo parlarne soltanto a fine anno per adesso c'era questo ragionamento da fare voglio sapere anche un po la vostra opinione fatemi sapere la famosa disequazione dell'epoca e invece questa nuova disequazione con la giunta di braovic ma siccome con la giunta di braovic diventa abbastanza impietosa a Grazie a tutti